Il livello di contrattazione si sta abbassando soprattutto nel settore della logistica e degli appalti. Ne è convinto il vice segretario nazionale della CGL Vincenzo Colla, ospite questa mattina dell'Assemblea Generale della Camera del Lavoro di Piacenza. Questo è un paese prodotto interno all'ordo piatto, non cresce, ha un problema di crescita. La Germania se prende un raffreddore noi prendiamo la polmonite e a pil piatto non si crea lavoro. Se non facciamo un'operazione radicale kenyagiana, che è quella di fare gli investimenti, di sbloccare gli investimenti pubblici. Colla è intervenuto anche sul caos della scuola che in questi giorni è interessato anche la nostra provincia. La scuola è stata forte quando non è mai stata autoreferenziale in rapporto con la sua comunità. Questo è il nuovo tratto secondo me culturale di ridisegno della scuola. Il vice segretario che vede di buon occhio il nuovo governo perché ci sono punti che ci accomunano, dice, ha parlato anche di svalutazione del lavoro. Noi abbiamo una bolla di povertà che si sta allargando. Lì dentro ci sono lavoratori di tutta l'età che pur di lavorare sono disponibili a tutto, a condizioni incredibili. Lì dentro non ci sono diritti, si lavora in alcune condizioni incredibili. Prendiamo alcune filiere degli appalti. Lì si compete sulle condizioni di lavoro. Non si svaluta la moneta, si svaluta il lavoro, si svaluta i diritti per competere.